Ora serve programmare la riapertura perché noi non possiamo immaginare che il lockdown e le chiusure siano la nostra normalità. Penso ad esempio al tema del certificato verde digitale, siamo stati i primi a sostenerlo, ci auguriamo che venga adottato il prima possibile in un orizzonte di totale reciprocità con tutti gli altri Stati europei. È una priorità ed è fondamentale per ripristinare la libertà di circolazione e far ripartire soprattutto il problema.